Allora, oggi proseguiamo con le questioni relative alla Sistemazio Studioli. Vi faccio vedere come sto sistemando la parte delle scartoffie. Io scrivo a mano sui fogli, per cui ho un sacco di fogli con tutte le mezze cose che ho scritto, mezze canzoni, mezze poesie, bla bla bla, idee, tutte in fogli dentro i raccoglitori, che di solito sono qui, in questo posto, sulla scrivania. Ne ho altre anche sullo scaffale e a volte ho anche un po' di fogli sul tavolo. Visto che ho due tavoli, questo bianco e quello marrone, ho deciso di togliere i fogli dal tavolo bianco e metterli su quello marrone. Cosa vuol dire? Che la scrivania, quella bianca, quella dove c'è il computer, rimane per il lavoro non scrittura. E la parte di scrittura più creativa la porto di là, dove non ho distrazioni tecnologiche. Questa sarebbe un po' l'idea. Praticamente ho sistemato. Ecco, un'altra idea sarebbe quella di mettere invece le cose così. Stenderle là in fondo, qua così in fondo, perché tanto lì c'è della roba, lì c'è della roba e lì mi ci potrei sedere. E avere la seduta libera qua e anche qua. Dove dire non è bello, però magari è comodo. È un sogno che Luca aveva da bambino. Lui ha sempre aiutato il nonno fortunato nei campi, nella stalla. Io e lui siamo insieme quasi da 30 anni. Io avevo 15 anni, lui ne aveva 20. Ma io l'ho sempre sentito parlare di questa idea di fare l'agricoltore appena avrebbe potuto. E poi nel 2005, avevo 40 anni, è venuta a casa e mi ha detto ho deciso di licenziarmi perché voglio, o lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Continuo ad essere poco convinto di mettere le cose contro il muro, però così mi posso sedere sui tre lati. Anche di là guardano fuori dalle finestre che sono sempre diverse e lì ci sta la gente a cui noi vogliamo bene. Allora eccoci qua, al netto del casino che c'è dietro e dei miei capelli, spero che la parrucchiera riapra presto. La situazione è più o meno questa che vedrete adesso. Cioè alla fine cosa ho fatto? Ho preso una cassetta che era da un'altra parte. C'erano dentro i cd, ho tolto i cd, li ho messi in uno scatolone del cacchio. E l'ho messo lì. Una cosa che sarebbe bello che potrei implementare, visto che ho tanti fogli diversi, cioè le canzoni quelle finite, quelle da finire, le idee. Sarebbe bello magari prendere un portadocumenti, sai quelli tipo questo. Ok, non mi sono seduto tante volte lì a scrivere, questa è la verità. Mi sono trovato più spesso qui con la chitarra perché alla fine mi è un po' più comodo. Però è bello aver messo là la roba, cioè io sono contento. Qui è più libero, è più vuoto. Cioè c'è casino adesso. Non va tanto bene. Sono contento. E là c'è la roba là, così. Ecco. Cioè tutto qua non è che... No. Eh.